Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations Raymond, sei tu, non è vero? Fa ancora male cadetto? No, posso ancora combattere Questa è la schietta Avete pensato a tutto? Ma neppure la FBC può coprire le proprie tracce stavolta Lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la Terra Esattamente come a Raccoon City E Terra Grisa? Non c'è più A quanto pare siamo tutti in ritaglia Ehi, voi due, guardate Lasciate ogni speranza o voi che entrate Lasciate ogni speranza È un verso di Dante Ti troveremo, Jill Te lo prometto Noi siamo la Veltro Portatori di vendetta dagli abissi dell'inferno Dannati terroristi Avevamo già ucciso quei bastardi Pare ne abbiate mancati alcuni E sono su questa nave E ora vogliono usare il virus per sferrare un altro attacco Cercano la verità su Terra Grigia E la vendetta E la vendetta Jill, guarda qui Sulla nave non c'è corrente L'alimentazione d'emergenza Basta far funzionare la nave Ma non il sistema di comunicazioni Dovremmo riattivare la sala macchine Anche se non sarà facile 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 Quella chiave vi farà accedere al casino al primo piano Lì c'è l'ascensore che vi porterà nella sentina Ma prima ditemi se per caso avete visto altri membri della FBC a bordo Ho perso i contatti con Rachel, la mia partner Dannazione Non l'ho più sentita da quando è scesa nella sentina Ve l'ho detto, l'entrata del casino è nel salone al primo piano Ve l'ho detto, l'entrata del casino è nel salone al primo piano Non l'ho detto, l'ho detto, l'entrata del casino è nel salone al primo piano Dobbiamo cercare questa Rachel? Dopo, prima dobbiamo riattivare l'alimentazione della nave L'elevenzione del casino è nel salone al primo piano Non l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto è nel salone al primo piano Non lo sappiamo appellare l'alimentazione della roca È una possibilità di rinforare l'alimentazione della del casino Che ci sono solo Sendo un buon piano Grazie a tutti. 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 Quindi posso procurarmi altre monete con questa. Ne vorrei una così a casa. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Ok, grazie a tutti. a tutti. Oh, ma... a tutti. 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 a tutti.